Ha ritenuto uno dei medici del centro di igiene mentale in servizio a Cerignola responsabile dell'allontanamento di sua figlia, la 36enne raggiunta da ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato, omicidio premeditato e atti persecutori. Il 6 dicembre scorso, stando alle indagini, si è presentata presso il CIM dove tra l'altro era in cura e ha tentato di colpire con un coltello a serramanico il medico della struttura. Solo un caso fortuito e la prontezza di reazione del medico che si è riparato dai fendenti con una sedia ha evitato conseguenze ben più gravi. Anche l'arrivo di una guardia giurata allertata dalle urla del sanitario ha bloccato l'azione della donna che ha tentato la fuga all'esterno ma è stata bloccata dall'arrivo dei carabinieri nel frattempo allertati sul numero di emergenza 112. Sequestrata anche l'arma. Durante le indagini i militai dell'arma di Cerignola coordinati dalla procura di Foggia hanno accertato anche che nei tre mesi precedenti la donna si è resa responsabile di atti persecutori nei confronti di un assistente sociale del comune di Cerignola considerando lo stesso responsabile dell'allontanamento della figlia. L'assistente sociale a quanto si è appreso nei primi giorni del mese di dicembre aveva presentato querela contro la donna presso le forze di polizia per atti persecutori. Grazie. 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 Grazie.